amici youtube ben trovati da marco liguori in un periodo denso di eventi sismici segnaliamo un violento terremoto avvenuto nella notte il sisma di grado 4,5 della scala ritter si è verificato a largo dell'oionio a cavallo tra le province di catania e siracusa amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video ciao a tutti grazie